Buongiorno a Dottor Licossa, di tanto in tanto ci ritroviamo per affrontare qualche tema meritevole di attenzione, anzi a volte si tratta di temi essenziali come quello che affronteremo oggi. Ad ottobre si terrà a Modena la quattordicesima giornata per la dignità sociale di Cristo, perché questa giornata Don Francesco? Si tratta di, prima di tutto, di rendere onore e gloria a Cristo Re, ma poi l'intento pratico che si è prefisso Don Carandino, al quale dobbiamo questa iniziativa, è quello della formazione intellettuale dei dei cattolici, in particolar modo quindi di militanti cattolici, in un momento in cui proprio questa formazione fa difetto, molte volte si preferisce l'azione quando almeno si fa qualche cosa, è questo tutto a scapito della formazione. Ecco quindi l'idea di queste giornate che non si tratta di conferenze fino a se stesse, del conferenziere che vende se stesso, presente a se stesso o come è stato detto malignamente da qualcuno, dello show di qualcuno che vuole vendere se stesso, a quanto piuttosto proprio con lo scopo di formare come se fosse una scuola, potremmo dire così, dei militanti cattolici e anche dei cattolici senza particolari aggettivi. Mi scusi la domanda banale, ma cosa vuol dire esattamente regalità sociale di Cristo? Ecco Gesù Cristo è Re, quindi c'è la regalità di nostro Signore Gesù Cristo, già il termine Cristo significa questo, vuol dire che è Re, anche sulla croce la sentenza di Ponzio Pilato testimoniava in un documento pubblico che Gesù era Re. Ora però si aggiunge questo aggettivo sociale, per significare che Gesù Cristo non è solamente Re da un punto di vista sovrannaturale e spirituale, che senza dubbio è l'aspetto principale, ma deve regnare anche sulle società. Ecco, quindi è l'influsso benefico che è la regalità di nostro Signore Gesù Cristo nel suo aspetto di potere legislativo, di potere coercitivo, di potere giudiziario, eccetera, insomma di tutti i poteri propri alla vera regalità che deve avere quindi non solo nell'ambito della vita della grazia, ma anche di riflesso, di conseguenza, nella vita sociale degli uomini e quindi del vivere in comune degli uomini, quindi della società, degli stati e delle nazioni. Questa dottrina è stata ammirabilmente riassunta da Papa Pio XI nell'enciclica Quas primas. Allora la regalità sociale di Cristo, ma si concilia con lo Stato laico? Si oppone, si tratta proprio di un'opposizione totale, una contraddizione totale, dire regalità sociale di Cristo e Stato laico vuole dire due cose che si escludono, se c'è lo Stato laico c'è la negazione della regalità sociale di Cristo, se si dice regalità sociale di Cristo c'è la negazione della laicità dello Stato. E quando sentiamo anche alcuni cattolici dichiararsi favorevoli allo Stato laico, cosa dobbiamo pensare? Purtroppo oggi non si parla solo di cattolici, ma addirittura di chi occupa praticamente tutte le sedi episcopali, inclusa la più alta, perché viene proclamata questa cosiddetta laicità positiva che purtroppo rimane pur sempre laicità. È proprio un motivo in più per avere queste giornate della regalità sociale di Cristo, perché si tratta non solo di combattere come nel passato gli errori per esempio dei liberali, che per prima hanno negato la regalità di Cristo e hanno voluto la laicità dello Stato, poi non sono gli unici perché tutte le ideologie che sono venute dopo hanno adottato questo medesimo principio, ma si tratta anche di far tornare i cattolici stessi all'insegnamento e alla dottrina della Chiesa che ignorano o addirittura che negano e che è molto peggio in maniera così triste, uniformandosi alla mentalità del mondo. Che relazione c'è, che collegamento c'è Don Francesco tra la legalità sociale di Cristo e la dottrina sociale della Chiesa? La legalità sociale di Cristo è un po' il criterio, è la luce che dirige e che governa tutta la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa viene a volte identificata con quella dottrina della Chiesa che parla di questioni economico-sociali, in realtà è molto più vasta, tratta anche di questo, a tutti viene in mente per esempio l'enciclica di XIII Rerum Novarum, poi tutte le altre sono venute in seguito, ma è molto più ampia, riguarda tutto quello che concerne il vivere dell'uomo in società e quindi qualunque campo può essere visto e giudicato alla luce della legalità di Cristo, cioè Cristo è il criterio che da un punto di vista della fede, poi c'è anche l'ausilio della ragione per coloro che sono privi della fede, allora bisognerà partire dalla retta ragione, ma Cristo è il criterio, la luce, il punto di partenza, l'alfa, il punto d'arrivo, l'omega, di tutte le questioni sociali che concernono la vita dell'uomo in società, dalla famiglia ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato, le funzioni dello Stato, le questioni economiche, le questioni di giustizia in generale, della vertù della giustizia. Quest'anno in occasione della quattordicesima giornata per la legalità sociale di Cristo che abbiamo detto si terrà a Modena, quali temi verranno affrontati Don Francesco? Allora, forse con una modalità che non è così importante, ma molti lo fanno e lo facciamo anche noi, ci ispiriamo a volte a degli anniversari come uno spunto per poter trattare di temi che possono essere trattati benissimo indipendentemente da questi anniversari. Allora nel 2019 abbiamo pensato a quello che accadde cent'anni fa e che ha avuto una così grande importanza anche per la Chiesa e per il movimento cattolico e abbiamo scelto tre anniversari, due molto noti e di cui si parla più o meno sui giornali, nei libri etc., e uno invece ignoto praticamente a tutti e che però è quello a cui noi siamo particolarmente affezionati. Quindi i due anniversari noti, se ne potrebbero trovare molti altri, quelli due che abbiamo scelto e non possiamo trattare di tutto, sono la fondazione nel 1919, quindi a Milano, Piazza San Sepolcro, dei fasci di combattimento e quindi la nascita del fascismo che poi ha avuto uno sviluppo ben diverso da quello che era alla nascita e nello stesso tempo un argomento del quale invece abbiamo già trattato, perché il primo invece non abbiamo trattato mai e il secondo invece ne abbiamo già trattato nel corso della regalità sociale, ma è così importante proprio perché riguarda quello a cui ha accennato lei, cioè l'opposizione dei cattolici alla regalità di Cristo. Quindi la fondazione del Partito Popolare di Don Sturzo, che riprendeva però la democrazia cristiana di Don Murri che era precedente. Qui il movimento cattolico incominciò a deviare adottando esplicitamente il principio della aconfessionalità. La democrazia cristiana o il Partito Popolare prima e dopo si sono voluti un partito aconfessionale che mirava a stabilire il principio della aconfessionalità, tutto quello contro cui combatté San Pio X durante il suo pontificato. E allora ecco la terza data, il terzo anniversario, quello che ci è più caro e che però è il più ignoto, la fondazione di una rivista, Fede e Ragione. Fu l'opera di Don Paolo Tommaso de Tot, un sacerdote originario del Friuli, la sua famiglia era ungherese ma si erano stabiliti nel Friuli, ma che ha vissuto quasi tutta la sua vita in Toscana tra Firenze e Fiesole e poi di Monsignor Umberto Benigni che nei primi anni della rivista ebbero una stretta collaborazione. Questa rivista fu praticamente la rivista che tenne alta anche dopo la morte di San Pio X, nel 19 era già morto, era morto nel 14, la bandiera dei cattolici cosiddetti integrali, quelli veri, non quelli fasulli che si spacciano adesso, alcuni con questo nome profanandolo. I cattolici integrali quindi quelli che continuavano la vera dottrina sociale della Chiesa che aveva, era stata difesa in maniera ammirabile da San Pio X. Questa rivista durò dal 19 al 29 e quindi tratteremo in occasione della nascita, la fondazione di questa rivista, di tutto il percorso degli autori che hanno contribuito a scrivere, delle tesi che hanno difeso e anche del rapporto, del giudizio che fede e ragione ebbe sia del fascismo, sia del partito popolare, perché i collegamenti sono strettissimi sia con l'uno e l'altro partito che hanno avuto una così grande importanza nella nostra storia nazionale italiana. Perché un cattolico dovrebbe partecipare a queste giornate? Perché i cattolici hanno bisogno di formazione, formazione che purtroppo non viene più data loro, ahimè, nelle parrocchie che dovrebbe essere il luogo normale di formazione, nelle scuole cattoliche, nelle università cattoliche, dove il cattolico oggi subisce più che una formazione è una deformazione. Allora ecco che noi ci impegniamo quasi come supplenza a fare quello che gli altri non fanno più o addirittura che fanno al contrario, al rovescio e penso che non è necessario, indispensabile per salvezza delle anime interessarsi a questi temi specifici, chiaramente la conoscenza del catechismo, delle verità fondamentali della fede cattolica e poi della vita dello spirito, spirituale, che noi cerchiamo di far sviluppare per esempio con gli esercizi spirituali o con altre iniziative, è non altrettanto importante ma forse più importante, però ci siamo anche accorti che uno dei motivi del crollo di quasi tutte le istituzioni cattoliche del cedimento di fronte al mondo moderno è venuto proprio a una debolezza di tanti cattolici, una mancanza di formazione su questi temi, magari i cattolici prima del concilio erano ferrati nel catechismo, se non tutti moltissimi, ma difettavano o avevano idee sbagliate sulle questioni della dottrina sociale della Chiesa, avevano assorbito il pensiero mondano e dimenticavano, non conoscevano oppure negavano di già quello espresso dai papi nelle loro encicliche oppure dai principali dottori della Chiesa o dai polemisti cattolici. Ecco quindi la necessità di recuperare tutte queste dottrine per poterci armare di argomenti che ci permettono di reagire allo spirito del mondo e di dare una direzione chiara e vera a tante persone che vorrebbero reagire contro gli errori del mondo moderno, che ormai invadono le nostre famiglie, le nostre persone, minacciano la vita delle persone, come per esempio il caso della eutanasia, per così dire, di Vincent Lambert, oppure i casi scandalosissimi di Bibiano, le leggi infami che non si possono chiamare leggi che stiamo subendo, tutto questo è un processo che provoca delle reazioni, reazioni sane, anche se inferiori a quello che dovrebbero essere, ma reazioni sane di persone però che nella maggior parte dei casi non sa da dove vengono questi mali e non sa che cosa bisogna fare per reagire veramente, hanno bisogno di idee chiare, allora noi cerchiamo di aiutarli a trovare un tesoro che non è il nostro, la nostra dottrina, ma è della Chiesa, è la dottrina della Chiesa che oggi viene purtroppo chiusa come in cassaforte perché non c'è più nessuno che spezzi il pane a delle anime che ne hanno fame, ne hanno sete, ne hanno bisogno. Oltre a partecipare a queste giornate, c'è qualche lettura che lei consiglia per quanto riguarda sia la legalità sociale di Cristo che la dottrina sociale della Chiesa? Come inizio basilare consiglio evidentemente il catechismo, prima di tutto l'abbiamo visto che è la base, perché se uno non sa che 2 più 2 è uguale 4, è inutile che incominci l'algebra o addirittura le cose più difficili. Poi dopo una buona formazione di base del cattolico, negli elementi della fede, consiglio le encicliche dei papi, naturalmente quelle dei papi legittimi e quindi fino al magistero straordinario di Pio XII, solamente in seguito o in seguito oppure assieme, ci si può formare da quegli autori sconosciuti ai più, di cui ho fatto cenno prima, come un Don Paolo De Totto, un Monsignor Benigni di cui abbiamo ristampato la storia sociale della Chiesa, anche grazie a lei, tra l'altro che ce l'ha suggerito, e altri autori di questo genere, che possono essere letti con sicurezza. Certo si tratta di autori del passato, anche se sono attuali e poi naturalmente ci illudiamo di poter dare anche noi, con Sodalizio, ma con le conferenze che facciamo, una prima formazione di base che può avvicinare e ha avvicinato di fatti molte persone alla Dottrina della Chiesa da poter poi approfondire studiando. Quindi dicevamo partecipare a queste giornate per la realità sociale di Cristo, fare le buone letture che lei consigliava, lei suggeriva. Ecco, oltre a questo, che cosa fa l'Istituto Mater Boni Consigli di cui lei è il superiore per la formazione del cattolico? Le iniziative sono numerosissime, a parte il seminario che è quella che ci prena la maggior parte del tempo, perché la formazione di un clero veramente cattolico degno di questo nome, un periodo in cui il sacerdozio è vilipeso, è gettato nel fango, disprezzato, è assolutamente indispensabile. Dopo quest'opera enorme c'è anche la grande fatica missionaria di assicurare in tutto il mondo, potremmo dire, in tantissime nazioni la messa con il rito cattolico autentico, non quello protestante di adesso. E poi abbiamo per esempio, quando ci richiamo a Loreto per esempio, pellegrinaggio straordinario e tanti altri che facciamo, che sono poi una messa in pratica di questa idea della legalità sociale di Cristo, perché non nasconderci, ma manifestare in pubblico la nostra fede, con le nostre bandiere, col canto del noi voglian Dio, eccetera, per le strade delle nostre città, rimette un pochettino sotto gli occhi di tutti la presenza appunto di Cristo Re e della fede cattolica. Infine, come ho già detto prima, gli esercizi spirituali, i campi e le colonie per i bambini e per le bambine, ne abbiamo più di 5 credo ogni estate, più svariati altri durante l'anno, anche lì la gioventù e l'infanzia è minacciata e i genitori devono capire che non basta più quello che gli veniva dato una volta, una buona educazione familiare, bisogna ammali estremi, estremi rimedi e quindi dargli molto di più fin da piccoli una formazione veramente buona, altrimenti rischiano di perderli e gli saranno strappati dalle loro mani, non avranno più i loro figli e questo è un pericolo gravissimo contro il quale bisogna fare qualcosa. La ringrazio Don Francesco e arrivederci a Modena. Grazie a lei e arrivederci a Modena dove potremo sviluppare questi temi appassionanti. Grazie a tutti.